Bloc Occupo di Frankfurt e dal blocco sud ci siamo riuniti con la coalizione italiana nel blocco nord e ricordiamo che i blocchi che stanno intorno alla BCE ad assediare la sede centrale della banca europea sono tre, una a sud, una a nord e un altro che invece è proprio dietro la sede della banca. Ci sono numerosi cordoni di polizia che stanno attaccando i militanti con spray al peperoncino e cariche. Nonostante questo tutte le coalizioni sia quella italiana, belga, francese e spagnola stanno continuando a resistere e continuando a portare in piazza la loro voce contraria alle politiche della troica. I manifestanti ci troviamo qui dove prima la delegazione italiana ha dato inizio alla sua iniziativa sono venuti a contestazione qui solamente all'atteggiamento che insieme alla polizia che appunto sta frutteggiando i militanti italiani. I militanti si riuniscono in crudone per all'interessi, la fontaggimentazione della polizia.